Musica Spetterà ad una perizia chiarire cosa sia successo la mattina del 20 settembre all'interno dell'archivio di Stato di Arezzo dove a seguito di una fuoriuscita di gas argon dall'impianto antincendio sono morti e sfissiati due impiegati, Piero Brugni e Filippo Bagni. Una tragedia che ha sconvolto l'intera città e che è ancora in attesa di un perché. I due erano scesi quella mattina nel seminterrato dove si trovava la centralina dell'impianto antincendio e le bombole di gas argon dopo che era scattato l'allarme. A disporre la perizia adesso è stato il PM Laura Taddei che conduce le indagini e che ha convocato un informatico forense, Venerino Locicero, di Montemurlo, considerato nel suo settore uno dei migliori professionisti. A lui sarà chiesto di chiarire il funzionamento del computer che presedeva anche quello dell'impianto antincendio, l'affidamento vero e proprio in programma per il prossimo venerdì alla presenza di tutte le parti. Intanto dalla procura di Arezzo erano partiti i primi cinque avvisi di garanzia. Nel registro degli indagati, aperto con l'ipotesi di reato e di omicidio colposo plurimo, erano finiti il direttore dell'archivio, il titolare dell'azienda Remas che curava la manutenzione, il tecnico che a giugno aveva fatto l'ultima revisione ed infine due consulenti di una ditta che ha curato i piani di sicurezza.